Musica Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 10 marzo 2017 in diretta 7.30 Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori Subito sul calendario del giorno vediamo in santo le previsioni del tempo poi i giornali Oggi il santo è Santa Maria Eugenia di Gesù il sole è sorto alle 6.28 tramonterà alle 18.08 Il cielo sarà oggi sereno poco nuvoloso con temperature massime in lieve diminuzione Mentre le minime saranno in lieve aumento ma vedete tutto sommato comunque un cielo sereno o poco nuvoloso Domani invece migliora cielo sarà sereno con temperature in diminuzione Domenica tempo bello ancora con cielo sereno poco nuvoloso temperature in aumento Tempo stabile anche per la prima parte della prossima settimana La tragedia, il crollo del ponte, il ponte della morte, questo è il titolo del Corriere Adriatico L'edizione regionale Crollo tra i caselli di Ancona Sud e Porto Recanati Perdono la vita due coniugi di spinetoli finiti contro la struttura Il ponte crollato vedete nella immagine grande a tutta pagina del Corriere Adriatico Tre gli operai feriti pensavamo dicono loro di morire sepolti I racconti shock siamo salvi per un secondo Costruito nel 1970 il cedimento è dovuto ai Martinetti Quei maledetti 30 centimetri dicono loro il tecnico dell'autostrade Avevamo finito Mentre l'accusa di omicidio colposo plurimo parte subito l'inchiesta Ma sulla prima pagina del Corriere Adriatico c'è anche la cronaca che arriva da Fano Con la tragedia alla Profilglas L'azienda di Bellocchi precipita da 12 metri Un operaio fanese controllava il tetto della fabbrica I colleghi sotto shock La CGL ora chiede la verità Una tragedia del lavoro che è accaduta ieri pomeriggio Alla Profilglas di Fano dopo un volo di 12 metri È morto sul colpo Morris Furlani 41 anni fanese Dipendente dell'impresa di Via Meda Nella zona industriale di Bellocchi L'uomo stava effettuando un controllo alla copertura di un edificio Cordoglio della CGL Che adesso come dicevamo appunto chiede la verità Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico Andiamo a vedere la pagina invece del Carrino Quella nazionale L'Italia ci crolla addosso a quattro mesi dalla tragedia di Lecco In provincia di Lecco un altro ponte ha ceduto Due morti e due feriti La mappa delle strade a rischio Questa è la prima pagina Mentre quella di Pesero è sull'arresto della banda della Pericena I pendolari del furto trovati ori per 20.000 euro Insomma qui potrebbe esserci Come vedete ci sono le fotografie C'è la fotografia con dell'oro recuperato Catenine, anelli e quant'altro Il Carlino pone la domanda Ci sono anche i tuoi Gli ori che magari hanno rubato nella tua abitazione Tre Rom che speronano i carabinieri a Pergola Guardate la fotografia La fotografia della gazzella dei carabinieri Che è stata speronata dall'auto dei Rom È successo a Pergola Adesso è caccia all'uomo E anche qui in primo piano In apertura sulla prima pagina del Carrino di Pesero L'operaio di 40 anni che muore in fabbrica È caduto da una piattaforma alta 12 metri alla prof Inutili i soccorsi Entriamo allora nelle pagine interne del giornale Sempre sul Carlino Eccola qui la notizia La tragedia della profinglass Vola dal tetto della fabbrica Morris Furlani è precipitato da un'altezza di 12 metri La caduta nel passaggio da una piattaforma al tetto Ed è deceduto purtroppo sul colpo Ieri pomeriggio nello stabilimento della profinglass Aveva 40 anni Celibe di Fano Era dipendente della profinglass di Bellocchi Un colosso nella lavorazione dell'alluminio Con 700 dipendenti L'infortunio è accaduto intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio Questa è la pagina di Fano del resto del Carlino Poi sempre sul quotidiano bolognese Ho fatto un museo per capire il fascismo Ma sono osteggiato Parla Giovanni Manoni E dice L'argomento è tabù Ho aperto questo museo da diversi anni Realizzando anche un sogno che coltivavo sin da ragazzo E vorrei che fosse a disposizione di Fano e del suo territorio Ma spero che l'amministrazione comunale mi aiuti a valorizzarlo È un barbiere di Tarnelle di Serrungarina Molto conosciuto Giovanni Manoni Che è appassionato Un appassionato collezionista di oggetti Documento del ventennio fascista E però dice Qui io non ho mai ottenuto attenzione Da nessuno Perché sembra appunto che l'argomento Quello del fascismo sia un argomento tabù Allora dicevamo Andiamo a Pergola Ecco qui l'articolo che riguarda la cronaca I ladri che speronano l'auto dei carabinieri I quali sono rimasti feriti I militari sono stati avvisati dai residenti Che si mettono di traverso Sono stati investiti Tre romi in fuga nei campi Vengono presi Ora si cerca il quarto È stato mobilitato anche il personale delle caserme vicine E un aereo ha sorvolato praticamente tutta l'area Ed è successo questo intorno alle 12.30 di ieri In località Osteria del Piano di Pergola Ok andiamo sull'altra pagina Del resto del Carlino A Urbino schianto con la moto Con la Yamaha Muore un 31enne L'incidente di fronte alla Meridiana sull'Urbinate Un'auto faceva retromarcia È finita contro il conducente Un 61enne Era intento di uscire di casa in retromarcia Per il motociclista Luigi Alessi di 31 anni Celibe di Petriano Meccanico della Volkswagen A Urbino Non c'è stato purtroppo scampo L'urto violento lo ha ucciso in pochi minuti E a Villa Grande di Monte Copiolo Addio a Leonardo Parlanti L'uomo del monte Ieri una folla di amici All'eremo al quale dedicò la vita Leonardo Parlanti Che tutti conoscevano come l'uomo del monte Appunto non c'è più Si è spento a 88 anni Dopo essersi ammalato all'epifania Ieri si sono tenuti i funerali E tutta la comunità locale Si è stretta attorno alla famiglia Andiamo adesso sul Torniamo sul Corriere Adriatico E riprendiamo le notizie Che riguardano il crollo del ponte Avvenuto ieri alle 13.30 Come vedete da questa immagine del quotidiano Ore 13.30 Inferno sulla 14 Crolla un ponte Due morti Il viadotto cede durante i lavori L'auto si schianta sulle macerie Non c'è scampo per una coppia di spinetoli O spinetoli Un incubo tra Loreto e Ancona Sud Feriti tre operai Sciocca e rabbia tra gli automobilisti Scampati alla tragedia E chi sono le vittime Di questo terribile e assurdo incidente Eccoli qua Tanti progetti Erano diventati quasi nonni Mimmo e Anto Sogni spezzati I coniugi di Omede Vittime del crollo del ponte Andavano ad Ancona Per una visita medica E insieme gestivano Un'azienda di confezioni A Colli del Tronto Lo shock di amici e dipendenti E qui c'è il racconto Mentre il figlio Daniele dice Una fine assurda Qualcuno adesso deve pagare Tante pagine sono Tante tantissime pagine Quelle del Corriere Adriatico Dedicate al Cavalcavie della Morte Un altro Ne prendiamo un'altra Pagina dove c'è il racconto Di uno dei testimoni Di questo incidente assurdo Papà ha inchiodato di botto Ho visto il sangue nell'auto I racconti shock di chi si è salvato Polvere ovunque Sembrava il finimondo in un secondo Un camionista parla sconvolto Quell'uomo cercava di dirmi qualcosa Poi ha chiuso gli occhi La rabbia degli automobilisti Dovevano chiuderlo quel ponte Prima Dovevano chiuderlo prima Quel ponte maledetto Nessuno ha segnalato l'incidente Poi naturalmente inevitabili Anche tanti chilometri di coda L'autostrada probabilmente è ancora lì È ancora chiusa E c'è anche E questo purtroppo non è una novità Ma c'è anche chi scavalca il fossato Per farsi una fotografia Un selfie Il selfie Dell'orrore E poi ancora Tante altre notizie Ha ceduto Hanno ceduto i Martinetti Che reggevano la campata Le ipotesi della procura Che adesso indaga Per omicidio colposo o plurimo Mentre Del Rio Dicono Gli ispettori Sono già al lavoro Abbiamo avviato subito indagini E collaboriamo con la magistratura Per un rapido accertamento Delle responsabilità E delle verità E poi ancora Sempre Su questo ponte Era in piedi da 47 anni E il disastro Durante un'attività Considerata di routine Nel tratto anconetano I lavori hanno interessato 4 cavalcavia 19 le operazioni Di innalzamento Nel percorso marchigiano Guardate la fotografia Dall'alto Autostrada per l'Italia Dice Quanto è accaduto È stato determinato Dal cedimento Delle pile provvisorie E quindi C'è stato questo cedimento Cedimento Che ha fatto sì Che tutto Questo blocco Cadesse Scendesse Tutto una volta 30 centimetri Da alzare Ma i lavori Erano quasi finiti Il condirettore Di autostrada Dice Il cedimento Non omogeneo Poi tutti i particolari Tutti i dettagli Su questa tragedia Li troverete appunto Sul quotidiano Di questa mattina Inericola Torniamo sulle pagine Nelle cronaca Di la cronaca Della provincia Di Pese Urbino Andiamo A Urbino Dove c'è La notizia Di questa Morte Di questo 32enne Luigi Alessi Che è morto In moto Tornando a casa Schianto con auto In retromarcia Incidente a Trasanni Alle 19.40 Luigi Alessi Di Gallo di Petriano 32 anni Espirato Poco dopo La fotografia Della vittima Del motociclista Eccola qua Pubblicata Sul giornale Di questa mattina Il conducente Della multipla Non ha visto Il giovane Arrivare In fase Di sorpasso Questa è la notizia Di cronaca Sul Urbino Sempre da Urbino Auto nella ZTL Qualche dubbio Affiora anche Tra i negozianti Non convincono Gli orari Del via libera Servono soltanto Ai bar E ai ristoranti Dicono E poi Da Fano Il web E i social network Per rilanciare I beni culturali In chiave turistica Accordo Con fondazione Media Team E il comune Riorganizza Le sue piattaforme Poi ancora Controlla il tetto E cade nel vuoto Muore sul colpo Alla prof Il glass Morris Furlani Fanese di 41 anni Precipita per 12 metri Da una piattaforma Elevabile Colleghi Sotto shock E con Aguzzi Invece La politica Pagina 48 Del Corriere Con Aguzzi Intoccabili Contributi Per lo sport L'ex assessore Antoniozzi Interviene Sui tagli Grazie alle società Abbiamo avuto Grandi risparmi E poi ancora Dalla valle del Cesano In seguimento Da film A tutta pagina Guardate Da film A Pergola Bloccata una banda Di malviventi I ladri Speronano i carabinieri Due arrestati subito Un altro Ore dopo Poco lontano Caccia aperta Adesso al quarto Quarto uomo Due militari In ospedale Tre I fermati C'è Tra i fermati C'è anche Una donna Razziata Alcune Abitazioni Isolate Di Pergola Ecco Il luogo Dove è avvenuto Questo Fuggi-fuggi Con L'auto Che ha speronato Quella dei carabinieri L'auto dei malviventi Poi dopo Loro sono fuggiti Come dicevamo Nelle campagne Circostanti Tre presi Adesso si cerca Il quarto Allarme In tutta la valle Poi Il grazie Della sindaco Baldelli Ennesima dimostrazione Di coraggio E di prontezza E poi Il Rio Grande Ora fa paura Siamo sempre Sulla valle Del Cesano Il ponte Della Pergolese Sul Rio Grande Tra Mondolfo E Monterado Il Rio Grande Ora fa paura C'è un rischio Esondazione Preoccupati Residenti di Ponterio Alvio Ostruito Da arbusti E da piante L'ultima pagina Della rassegna stampa Quella di Senigallia Deve pagare la tassa Sui rifiuti Peccato sia morto Da 32 anni La bolletta Prevede anche L'aumento Del 37% Si chiede Di cambiare Il regolamento Comunale È necessario Disdire le utenze Per dimostrare Che la casa Non è di fatto A disposizione E con questo Chiediamo qui La nostra rassegna stampa Del mattino Che torna domani mattina Come sempre Puntuale Puntuale alle 7.30 Io vi ringrazio Vi ricordo Che a questo numero Potete chiamarci Per le vostre Segnalazioni A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti